Don Angelo, la Chiesa, soprattutto Monreale, in questo caso è molto vicino anche a Lantaldo Breda, non soltanto la Messa oggi ma anche tante altre attività. Ma da quando Monsignor Pennisi è cevescovo di Monreale ha da subito attivato una grande attenzione nei confronti del mondo del lavoro e delle nostre aziende ed è stato presente non solo ed esclusivamente in queste aziende che sono in sofferenza, Lanzaldo Breda o magari qualche altra come l'Italtelle ma lui ha messo in programma, e io in questo l'ho sostenuto come direttore di Oscesano dell'Ufficio Pastorale del Lavoro e Pastorale Sociale lui ha posto in essere una visita a Natale e a Pasqua delle aziende, un incontro con i lavoratori, un momento di preghiera e di confronto e tutto questo proprio domani si concluderà con un incontro a mezzogiorno presso l'azienda Omer di Carini con tutti gli imprenditori e il mondo politico in modo particolare l'assessore regionale alle attività produttive. Certamente il nostro acivescovo è presente, il nostro acivescovo è molto attento ed è pronto a condividere, così come lui stesso vi ha detto, le difficoltà, i problemi, le angosce dei nostri lavoratori e delle loro famiglie.